Il nostro speciale è dedicato all'emergenza coronavirus insieme fino a alle 19. Anche oggi con tante notizie e tanti collegamenti sul territorio regionale ci occuperemo di quanto sta accadendo sul fronte Covid-19 ma apriremo anche una finestra su un terribile fatto di sangue che si è verificato a Firenze. Vedremo aggiornamenti in diretta tra qualche minuto. Per cominciare però come sempre i numeri, i numeri dell'ultimo bollettino regionale con la nostra cartina. Sono 196 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Toscana a 24 ore dal bollettino precedente. Sono 13 i nuovi decessi. Da sottolineare che sia i nuovi casi che i decessi sono in flessione rispetto a ieri. Per i nuovi casi si registra l'aumento più basso dall'inizio dell'epidemia più 4,4% da mettere in relazione con il notevole aumento dei tamponi che sono stati 33.165 fino ad oggi di cui 3.066 solo nelle ultime 24 ore. A oggi ci sono 4.608 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, 37 le guarigioni virali, 101 quelle cliniche e 244 i decessi totali. I casi attualmente positivi in cura rimangono 4.226. Per quanto riguarda i ricoveri sono in totale 1.413, 293 in terapia intensiva. La suddivisione per la provincia di segnalazione, 1.087 i tamponi positivi a Firenze, 332 a Pistoia, 258 a Prato. Il totale dell'Asl centro è a 1.677. 729 invece i tamponi positivi a Lucca, 561 in provincia di Massacarrara, 471 a Pisa, 280 a Livorno. Il totale dell'Asl nord-ovest che supera quota 2.000, fa 2.041. e poi ancora 257 casi a Grosseto, 301 a Siena e 332 ad Arezzo. Il totale nella zona dell'Asl, la Toscana sud-est, è di 890. Sono invece ad oggi 14.083 le persone in isolamento domiciliare in Toscana. Questi numeri sui quali torneremo, torneremo a mostrarvi la nostra cartina nel corso della nostra lunga diretta quotidiana. Apriamo però adesso il nostro primo collegamento, un collegamento via Skype con il Sindaco di Firenze, Dario Mardella. Buonasera, Sindaco, che ritroviamo all'interno del nostro primo piano. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Dobbiamo parlare di tante cose oggi, iniziando da l'attualità, da quello che è accaduto alle 12, un momento di silenzio, un minuto di silenzio, condiviso con tutti i sindaci d'Italia per le vittime, ma anche ancora una volta per omaggiare lo sforzo di chi combatte in prima linea. Sì, è stato un momento molto toccante e anche emozionante. Io credo che non lo dimenticherò mai nella mia vita. Essere lì solo in una piazza desolata, che in un altro tempo sarebbe stata stracolma di fiorentini e turisti, mi ha emozionato molto, anche perché ho pensato prima di tutto alle vittime, come ha detto lei. Sono grato all'Anci, che ha fatto proprio la proposta che veniva dai sindaci della provincia di Bergamo, di un minuto di silenzio che è diventato poi il momento di cordoglio di tutta l'Italia, dal Vaticano al Quirinale, la RAI, i sindaci, ma anche le aziende. Abbiamo sentito le campane suonare in quel minuto e questo credo che sia il volto bello dell'Italia, che sa essere un grande paese nei momenti più difficili. Ovviamente ai familiari di questi tanti morti il nostro pensiero più sincero di affetto e di vicinanza e anche un ringraziamento a tutti quelli che stanno combattendo in questi momenti, in queste ore, per sconfiggere questo contagio. Firenze ha messo a disposizione anche le proprie strutture, in particolare il proprio forno crematorio per aiutare la difficilissima situazione di Bergamo. Sì, ieri ho sentito il sindaco Gori, con il quale abbiamo un colloquio abbastanza costante in questo periodo. Mi ero messo a disposizione dall'inizio e sono felice di poter aiutare la città di Bergamo. In realtà è il minimo dare un appoggio per la cremazione delle salme, delle persone che sono morte per il Covid-19. Credo che sia anche un dovere per noi, lo faremo compatibilmente con le nostre strutture, ma credo che nell'arco di pochi giorni potremmo rispondere a tutte le richieste che ci sono venute dalla città di Bergamo per cremare al momento 35 salme. Abbiamo anche condiviso una donazione con la realtà di Brescia. Io sono orgoglioso del fatto che Firenze abbia costruito questi gemellaggi di solidarietà, di aiuto con le due città in assoluto più colpite del paese e anche del mondo. C'è un fronte però di sindaci che va anche oltre l'Italia. Lei ha detto poco fa di aver sentito la sindaca di Parigi. Di cosa avete parlato? Abbiamo parlato di due iniziative che porteremo avanti con i sindaci europei. La prima è quella di chiedere il massimo supporto a tutte le città colpite dal virus, per le mascherine, per la produzione di dispositivi medici, a tutela non solo di medici e infermieri, ma anche di tutti i cittadini e gli operatori. La richiesta ai governi di accelerare la riconversione di fabbriche per produrre prodotti che sono necessari, come sta avvenendo anche in Toscana. Il secondo obiettivo è quello di creare una rete con i sindaci di tutta Europa per sollicitare i leader nazionali a sposare la linea dell'Italia, della Francia e della Spagna. Cioè quella di ricorrere ad un indebitamento del budget europeo per dare a tutti gli stati la possibilità di avere un fondo economico non solo per affrontare la crisi, ma anche per ripartire. Infatti parleremo insieme alla sindaca di Parigi, soprattutto con i sindaci austriaci, tedeschi, olandesi, perché parlino con i loro capi di governo che ora sono i più resti a sposare la linea dell'Europa unita, che è la linea portata avanti dal nostro governo e sostenuta da spagnoli, francesi e molti altri paesi. Tornando invece all'interno dei confini nazionali, ma sempre parlando di aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà, ogni comune è libero di muoversi come ritiene per gestire sul territorio questo tipo di erogazioni. Lancia ha dato delle linee guida, voi come pensate di muovervi? Credo che comunque grazie a queste linee guida dell'Associazione dei Comuni non ci saranno differenze troppo grandi tra un comune e l'altro. A Firenze disponiamo di un fondo di 2 milioni e 400 euro, che peraltro è anche irrobustito da alcune devoluzioni che vengono dalla Fondazione Cassia di Risparmio. È un fondo che serve proprio a dare alle famiglie gli strumenti per superare questo periodo di crisi nell'acquisto di generi alimentari e aggiungo anche di generi di prima necessità di tipo medicale e quindi noi ci avvarremo da un lato della rete del volontariato come Caritas e Banco Alimentare, dall'altro useremo questa formula dei buoni che daremo ad una platea molto vasta costituita sia da chi a causa della crisi ha perso il lavoro o è entrato in una situazione di grande degenza, sia a chi già si trovava in una situazione di difficoltà economica che viene accentuata proprio dalla crisi. Faremo un meccanismo molto semplice perché devono arrivare subito questi soldi alle famiglie, non sono pochi, 2 milioni di euro non sono pochi e infatti già domani abbiamo l'aggiunta per approvare la delibera ed è già arrivato proprio in queste ore il primo acconto del governo, quindi abbiamo subito la disponibilità economica, in settimana partiremo con il numero verde, con il centralino e cominceremo a dare pasti e a dare i buoni per l'acquisto. Sindaco, l'emergenza purtroppo in Toscana, secondo stime che sono state pubblicate ieri, potrebbe in realtà esaurirsi più in ritardo rispetto ad altre regioni per l'andamento, diciamo così, statistico della curva che segna il calo dei contagi, ma poi staremo a vedere ovviamente se le previsioni risponderanno alla realtà. Sta di fatto che la fine di questa situazione sicuramente non è dietro l'angolo, lei stesso ieri ha dovuto annunciare delle scelte dolorose, sebbene inevitabili, come ad esempio l'annullamento dello scoppio del carro. A questo proposito le chiedo, intanto, visto che siamo spettatori interessati, qual è la decisione presa, se è già stata presa riguardo al sorteggio per il calcio storico o se anche tutto ciò, diciamo, deve essere rimandato a giorni in cui si avranno maggiori certezze. E poi come si pone, ecco, riguardo al dibattito che investono, la politica soprattutto, riguarda il tema della riapertura, della ripresa delle produzioni, ecco, se cercare di accelerare i tempi per non andare incontro al disastro economico oppure se comunque attendere il parere dei sanitari, diciamo così, degli esperti della sanità. Allora, andando per ordine, come sapete lo scoppio del carro è una tradizione secolare, è stato doloroso decidere l'annullamento, l'ho fatto anche con la condivisione del cardinale, nostro vescovo Betori, anche perché avremmo dovuto spendere 50 mila euro e preferiamo utilizzare questi soldi per i servizi sociali, assistenziali e sanitari delle nostre famiglie. Lancio un'idea, visto che RTV38 è un emittente importante, l'anno scorso ha fatto la diretta, sarebbe bello che proprio nel giorno di Pasqua, nella fascia oraria in cui di solito abbiamo lo scoppio del carro, sarebbe bello trasmettere le immagini del passato, delle Pasque precedenti che sono state davvero momenti di grande festa, proprio come auspicio per il prossimo anno. Raccogliamo volentieri lo stimolo, ne parleremo, questo senza dubbio. Detto ciò, vi faremo sapere al più presto le decisioni sul sorteggio per quanto riguarda il torneo del calcio in costume, su quale peraltro dobbiamo ancora prendere decisioni, perché giugno può sembrare lontano, ma in realtà se guardiamo all'evoluzione dell'epidemia non c'è la certezza di poter confermare tutte le manifestazioni prima dell'estate, ma è ancora presto comunque per prendere una decisione. Quanto alla questione della riapertura di scuole e fabbriche, io francamente non sono in grado di dare una valutazione per il ruolo che ho e anche per l'osservatorio che riguarda solo la città. Credo che debbano essere le autorità sanitarie a esaminare l'evoluzione dell'epidemia e dare a noi poi i criteri e gli strumenti per prendere una decisione sulle riaperture. Tutti noi speriamo di riaprire presto e saranno ovviamente le autorità sanitarie a darci gli strumenti perché la nostra decisione possa essere una decisione ponderata e soprattutto orientata alla salute dei nostri cittadini. Grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie a voi. Il Sindaco Nardella che nelle scorse ore ha tornato a chiedere anche un'intensificazione dei tamponi in particolare sul fronte delle strutture d'accoglienza per anziani. La Regione ha di fatto risposto poi a questo tipo di appello, è arrivato da più sindaci perché ci saranno i tamponi a tappeto in questo tipo di strutture. Tamponi che si fanno numerosi e che si fanno con il drive-thru, cioè direttamente in auto, anche nell'area della ASL Toscana Nord-Ovest, anche a Lucca dove andiamo in diretta con il nostro Luca Lunedì. Luca, a te. Sì, siamo davanti all'ospedale Campo di Marte, la vedete quella dietro di me, è la struttura mobile dove vengono fatti i tamponi. Noi questa mattina siamo venuti qua, abbiamo documentato questa attività, questa procedura che viene effettuata, praticamente le persone vengono contattate dall'ASL, vengono qua senza scendere dall'auto ma semplicemente abbassando il finestrino. Ci sono due operatori che prendono il tampone, effettuano il tampone naso e bocca, poi il campione viene ovviamente sigillato e portato in laboratorio, un laboratorio che può essere sia quello qua a Lucca oppure mandato al laboratorio di Pisa per essere analizzato. Ecco, quello che è importante dire è che questa procedura è riservata alle persone che vengono contattate dall'ASL, quindi chi presenta sintomi o ha stretto contatto con persone positive. Questo è importante dirlo perché, assolutamente per corretta informazione ovviamente, ma per evitare che le persone vengono qua in maniera autonoma e chiedano di fare dei tamponi, dei controlli. Questo è successo e gli operatori hanno spiegato che la procedura è strettamente e rigidamente controllata dall'ASL, anche perché altrimenti qua si formerebbero degli raggruppamenti, che è esattamente ciò che si vuole impedire con questa procedura perché sarà disegnata apposta per evitare che le persone si ritrovino e che si formino dei gruppi dove vengono effettuati i tamponi, così in questa maniera invece le persone non scendono neanche dall'auto, stanno isolati nella propria auto e il tamponino è effettuato direttamente nell'abitacolo. Sì, Luca possiamo sentire? Sì, abbiamo parlato con gli operatori che erano qua e ci hanno spiegato esattamente come funziona questa procedura, quindi io sentirei quello che abbiamo raccolto questa mattina, poi per il momento qua da Lucca è tutto. Bene, ci ritroviamo più tardi, intanto sentiamo l'intervento. Allora, ogni paziente chiaramente ci cambiamo i guanti, ci disinfettiamo gli altri e una passata di antisertico lo diamo anche sui guanti che poi andiamo a farci tampone anche se siamo già pulite e disinfettate e poi niente, si va a effettuare direttamente dalla macchina il tampone faringeo. Quanti ne avete fatti già oggi? Abbiamo perso il conto, sinceramente, più o meno una trentina, sì, ne stiamo aspettando ancora, quindi... E questa attività andrà avanti per quanto? Questo non lo sappiamo, sinceramente noi non lo sappiamo, noi facciamo soltanto il tampone e basta, siamo infermieri che siamo addetti a quello, capito? E i tamponi da qui poi dove vanno? Allora, alcuni tamponi vanno al nostro laboratorio e altri invece a quello di Pisa. In apertura non solo dell'emergenza coronavirus, ci occupiamo, quest'oggi a primo piano c'è stato anche un terribile fatto di sangue a Firenze in via del Bronzino. Andiamo in diretta allora a sentire quello che è accaduto da Patrizia Menghini. Patrizia. È proprio così, Luca, siamo al Civico 80 di via del Bronzino, a pochi passi da Piazza Gaddi e da Ponte alla Vittoria. Qui è successo un dramma della solitudine, una tragedia familiare, ancora presto per dire si è legata a questo periodo di isolamento imposto, naturalmente, dall'emergenza coronavirus, tant'è che c'è stato un omicidio suicidio. Un uomo di 87 anni ha ucciso con il fucile da caccia che deteneva regolarmente la moglie. Di 97 anni pare gravemente ammalata da anni. A dare l'allarme è stato un parente alla lontana della coppia di anziani che non aveva figli. Questo parente gli stava portando da mangiare, forse per evitare loro di, evitare soprattutto a lui, di uscire e andare a fare la spesa. E visto che nessuno gli rispondeva, si è preoccupato. Ha chiamato il 113. E a quel punto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Firenze-Oltrarno. Poi scoperti i cadaveri nella camera da letto, lei sul letto e lui, poco distante, seduto sulla poltrona con accanto l'arma che aveva usato poco prima per uccidere la moglie e poi se stesso sono intervenuti anche i poliziotti della scientifica e il magistrato di turno, Giacomo Poletti. Quello che è successo pare chiaro. Insomma, gli inquirenti non hanno molti dubbi, un dramma della solitudine. Lui era un uomo molto schivo, ci ha detto il tabaccaio, l'unico esercizio commerciale aperto proprio qui nelle vicinanze. Non fumava, dunque non conoscevo molto, ma lo vedevo sempre andare a prendere il giornale. La mattina è il pane. Dicevamo, un parente alla lontana che si è preoccupato e è andato a vedere, appunto è stato lui che si è preoccupato e ha chiamato la polizia. Quindi un dramma della solitudine, un omicidio e suicidio che si è consumato in questo momento di disperazione anche per tante famiglie e per tanti anziani che si ritrovano soli. Non è dato di sapere al momento se fossero in quarantena, se avessero problemi di salute. Sappiamo che lei sì, lei era inferma da tanto tempo. Questo è quanto è successo qui, intorno alle 13. Non sappiamo a quando risalga questo omicidio o suicidio, perché sappiamo solo il momento in cui questo parente ha dato l'allarme. Perfetto, grazie Patrizia, ovviamente se ci saranno novità nel giro, nei prossimi minuti, nel corso della nostra diretta vi daremo aggiornamenti. Grazie in frattempo a Patrizia Menghini. Prima di lasciare la linea alle regie, rivediamo la cartina che fissa il dato, il bollettino regionale arrivato nel pomeriggio di oggi, fissa il dato dei nuovi tamponi risultati positivi, sono 196 in più rispetto a ieri, che portano il totale a 4.608, un aumento molto più contenuto. Va detto rispetto ai giorni scorsi, il che fa ben sperare per una flessione verso il basso della curva, soprattutto per lo sviluppo di questa emergenza nei prossimi giorni. In calo anche il numero dei nuovi decessi, che sono 13 purtroppo rispetto al bollettino precedente. Il totale in questo caso arriva a 244. Ci fermiamo adesso per pochi minuti, poi riprendiamo con la nostra diretta i nostri collegamenti e poi ci saranno anche i numeri della protezione civile. State con noi. Di nuovo in diretta con il nostro primo piano. Abbiamo detto, in base ai dati dell'ultimo bollettino regionale, che ci sono segnali positivi, segnali che fanno ben sperare, numeri che fanno ben sperare riguardo all'aumento dei tamponi in Toscana. Va detto, però, allo stesso tempo che restano situazioni molto difficili, quelle in tante RSA, in tante strutture per l'accoglienza degli anziani. Ormai quotidianamente, purtroppo, possiamo dire ragione veduta che buona parte dei nuovi positivi arrivano proprio dall'interno di queste strutture, che ospitano persone fragili. C'è stato un nuovo decesso tra i pazienti di una RSA in provincia di Arezzo, in quella di Bucine, il quinto decesso tra i positivi di quella struttura. E c'è un'altra struttura d'accoglienza per anziani, sempre in provincia di Arezzo, dove sono stati rilevati casi positivi con annessa polemica, protesta da parte della sindaca di Montevarchi, nonché presidente della provincia di Arezzo. Ne parliamo, andando proprio davanti al palazzo della provincia di Arezzo, con Greta Settimelli. Greta. Sì, Nicola, effettivamente, insomma, l'RSA, indubbiamente, si dimostrano, insomma, le strutture più fragili in questa emergenza sanitaria. Come dicevi tu, l'ennesima RSA che si aggiunge, insomma, rispetto ai casi positivi, è questa RSA di Montevarchi. Sono 17 i casi che sono stati riscontrati, 12 degenti e 5 operatori. Ma, come sentirete tra poco nell'intervista del sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, c'è l'attesa di 50 tamponi. Quindi, insomma, speriamo tutti che siano negativi, però, insomma, c'è grande preoccupazione. Sentiamo che cosa ci ha detto, proprio questa mattina, il sindaco di Montevarchi, a margine, tra l'altro, della cerimonia, del minuto di silenzio. Oggi, sapete, è lutto nazionale. Alle mie spalle dovreste vedere anche le bandiere listate a lutto. Sentiamo Silvia Chiassai. Purtroppo no, perché aspettiamo all'incirca altri 50 tamponi tra ospiti e personale. Purtroppo, l'ho detto tante volte, ma sono inascoltata. C'era bisogno di una prevenzione che non è mai stata fatta. Il caso di Bucine, proprio nella nostra vallata, a quanto pare non è bastata. E ci sono tante altre strutture dell'RSA della nostra regione che purtroppo presentano lo stesso fenomeno. Senza tamponi da fare al personale e ad agenti in maniera preventiva, poi si arriva a situazioni come queste. Per me sono delle vere e proprie catastrofi. Ricordiamoci che dietro ad ogni ammalato di coronavirus o ad ogni defunto c'è una famiglia. Noi si parla da settimane di numeri, di aumenti di numeri. L'ha aumentato di un'unità, l'ha aumentato di due. Sono dietro sofferenze legate ad ogni singolo caso che non devono essere assolutamente poste in secondo piano. Quindi ogni caso positivo all'interno, soprattutto di una struttura dove ci sono gli anziani, per me ha una grandissima gravità. Quindi io mi auguro, anche se ormai per la nostra struttura è tardi, ma almeno per le altre, che ci sia un intervento sostanziale a tappeto perché si possa individuare eventuali fenomeni che come in questo caso purtroppo sono verificati. Temo la risposta dei prossimi tamponi, purtroppo. Ecco allora, intanto scusami, ovviamente ormai questa cosa che inverto i nomi è diventata un cliché, Luca. Nessun problema. È proprio di oggi, ecco tornando all'argomento invece di cui parlavamo, che appunto visti tanti casi che si stanno verificando e preoccupato proprio di tanti casi di positività che stanno purtroppo venendo fuori. Il presidente della regione toscana ha firmato proprio in queste ore appunto questo nuovo protocollo in cui ha deciso di far partire immediatamente lo screening di massa nelle residenze sanitarie appunto a cominciare proprio dalle realtà maggiormente interessate dai casi. Quindi è uno screening assolutamente a tappeto sia nelle RSA che nelle RSD, quindi le residenze che ospitano disabili e anche nelle strutture sociosanitarie della Toscana. Oggi stesso partiranno anche 5.000 test sierologici nelle aree più colpite dell'ASL Toscana Centro e 1.600 in quella della Nord-Ovest. Il presidente Rossi ha incontrato anche i privati ai quali chiederà di convenzionarsi con la regione per fare appunto assieme screening diagnostici a tappeto appunto nelle RSA. Come disposto nelle ordinanze, se gli esami diagnostici si riveleranno, riveleranno la presenza del virus, ospiti e dipendenti delle strutture ovviamente contagiati verranno separati da quelli negativi e posti in isolamento. Se è possibile all'interno della stessa struttura, altrimenti in un'altra residenza sanitaria idonea alla quarantena. C'è poi anche la disponibilità dei cosiddetti alberghi Covid, come ricordava proprio lo stesso presidente Rossi ieri nella visita ad Arezzo. Grazie Greta, tra l'altro a proposito di screening e di test a Firenze per i residenti nel comune di Firenze sarà possibile da domani richiedere un test seriologico rapido, quello in grado di evidenziare se si è contratto il coronavirus. Lo si potrà fare privatamente, cioè c'è una start-up fiorentina che sul proprio sito metterà in vendita di fatto questi test, si potranno acquistare e poi saranno analizzati da dei laboratori privati. Tutto questo accadrà da domani. Possiamo immaginare che la richiesta sarà molto alta vista l'apprensione attorno al contagio più che giustificata. Ovviamente poi sarà interessante capire se questi dati che verranno elaborati dal settore privato, ma immaginiamo che sia così, verranno incrociati con quelli dei test, delle analisi che vengono fatti dal pubblico. Peraltro quest'esame potrà essere eseguito solo da chi non ha sintomi e non è in regime di quarantena, proprio per non sovrapporre il lavoro del privato e del pubblico per non fare confusione anche con i numeri. Noi invece adesso ci colleghiamo con il nostro Francesco Storai, che è a Prato, nella zona del Macrolotto 1, per fare il punto anche sulle notizie di giornata nella zona. Francesco. Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio ai telespettatori. Dobbiamo anche oggi fare il conto, purtroppo, di nuovi contagi. Parliamo di 10 nuovi casi in provincia di Pistoia, un numero tutto sommato relativamente basso rispetto a quelli che abbiamo visto e vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche proprio qui da Prato. Però, purtroppo, dobbiamo aggiornare il conteggio anche delle vittime, perché oggi, nelle scorse ore, si è stata registrata la quindicesima vittima da coronavirus qui della provincia di Prato. Si tratta di una donna di 91 anni, ex ospite della RSA di Comeana, che purtroppo è diventata tristemente famosa perché si tratta del quinto decesso all'interno di questa struttura di Carmignano, dove, se ricordate, abbiamo fatto un collegamento qualche giorno fa. I numeri, comunque, sono in calo, soprattutto per quanto riguarda i nuovi contagi e questa è una piccola speranza, una piccola luce in fondo al tunnel a cui aggrapparsi in questo momento assolutamente disastroso. Così com'è disastroso da un punto di vista economico quello che ho intorno. Io sono al macrolotto e, come potete vedere, non sta passando nessuno, non c'è nessuno. È passata poco fa una volante della polizia, ma è tutto qui. Ecco, qui le produzioni sono completamente ferme e fa una certa impressione vedere un territorio come questo che di notte, di giorno, brulica, di lavoro, di vita e in questo momento ci sono solamente io e il frusciare del vento. È veramente una situazione che, se ce l'avessero raccontata qualche settimana fa, qualche mese fa, non ci avremmo mai creduto. Un'ultima notizia, Luca, poi ti restituisco la linea. C'è stato però qualcuno che, nonostante il blocco delle aziende imposto dal governo, ha comunque tentato di tenere aperto. Si tratta di un'azienda di Montemurlo che è stata poi scoperta dalla polizia. Nelle scorse ore sono stati multati i quattro dipendenti che lavoravano lì e i titolari che avevano lasciato aperto e continuavano a lavorare, seppur con una produzione ridotta, ma comunque stavano lavorando ed comunque stavano infrangendo la legge in quanto la loro produzione non è tra quelle ritenute indispensabili in questa fase di emergenza. Per ora, da Prato è tutto. Luca, ti restituisco la linea. Grazie Francesco. Torneremo anche con te a collegarci più tardi per parlare di un'altra iniziativa più curiosa che interessa sempre il territorio, in particolare quella del Comune di Prato. Continuiamo però a parlare di aziende perché sono circa 7.000 in Toscana le richieste arrivate alle prefetture da parte di imprese che chiedono di poter proseguire l'attività in deroga al DPCM del 22 marzo scorso in quanto collegate queste aziende e le loro produzioni ai settori ritenuti essenziali che quindi non possono fermarsi. Il dato è stato diffuso dalla CGL Toscana, i dati non sono ancora definitivi ma arrivano dalle camere del lavoro. Sono troppe le aziende, secondo la CGL, che fanno finta di non capire che il virus si combatte riducendo al limite del possibile le occasioni di contatto. Questo è appunto il parere del sindacato, ma come detto ci sono tante aziende che vorrebbero una deroga rispetto al decreto del 22 marzo per riprendere la loro produzione. Peraltro sono arrivate, fa sapere la Regione, anche le prime domande per la cassa integrazione invece in deroga, in questo momento molto difficile in cui anche la Regione prova a fare la sua parte, il servizio. La Toscana amplia l'intervento sulla portata per la cassa integrazione nel momento di massima difficoltà anche per le aziende, coinvolgendo Garanzia Toscana, il fondo robustito grazie a 60 milioni iniettati lo scorso anno. Il governo regionale stabilisce inoltre i tempi per l'istruttoria da parte di confidi regionali. Entro 15 giorni le aziende dovranno avere una risposta. Altrettanta velocità, come scrive la Nazione, e un contenimento degli interessi viene chiesta alle banche. I costi sostenuti dalle imprese saranno rimborsati dalla Regione sotto forma di voucher. Inoltre, se il governo fissa un tetto del finanziamento a testa di 1,5 milioni, la Regione stabilisce che le aziende possono andare oltre questa cifra, rivolgendosi proprio a Garanzia Toscana. I pagamenti dei rimborsi, dei prestiti agevolati, possono essere rinviati al 30 settembre e con una semplice comunicazione delle aziende. La priorità oggi è quella sanitaria, ma non sarà da meno l'emergenza economica e su quella da subito la Giunta si è messa al lavoro perché il sistema toscano, appena si potrà, sia pronto a ripartire, dicono dalla Regione. Nel frattempo arriva il via libera alle domande per la cassa integrazione in deroga. L'azienda presenta la richiesta alla Regione. Questa trasmette all'Inps il provvedimento di concessione con l'elenco dei dipendenti beneficiari. L'Inps concede l'autorizzazione e la trasmette al datore di lavoro che dovrà inviare allo stesso istituto il modello entro sei mesi. Sempre dalla Regione arrivano anche 8 milioni e mezzo, di cui 4 le aziende agricole che si convertono al biologico ed altrettanti per l'agricoltura di montagna. Subito a Roma per la conferenza stampa quotidiana della protezione civile con il capo Borrelli. L'Associazione Italia Longeva ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico che oggi mi accompagna nel corso di questa conferenza stampa. Partiamo dai dati di oggi. Oggi il totale delle persone attualmente positive è di 77.635 con un incremento di 2.107 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.023 sono in terapia intensiva, 28.192 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte, 45.420, il 59% del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo purtroppo ancora 837 nuovi deceduti. Il totale dei guariti, complessivamente di 15.729 rispetto a ieri, le persone guarite sono 1.109 in più. Per quanto riguarda i dati della CROSS, della centrale di soccorso remoto sanitario, ad oggi sono stati trasferiti 96 pazienti, il numero rispetto a ieri è di due. In totale sono 56 pazienti affetti da coronavirus e 40 non affetti dal coronavirus. Per quanto riguarda le forze in campo, registriamo oggi 12.204 volontari, cresce il numero dei volontari impiegati, a questo si aggiungono le forze armate, le forze dell'ordine, il personale del Dipartimento, delle Regioni e i sanitari, che sono in prima linea e che vogliamo tutti quanti ringraziare. Il dato delle tende di pre-triage sono 779 all'esterno degli ospedali, 151 sono le tende di pre-triage nei penitenziari. Per quanto riguarda i fondi raccolti dal Dipartimento della Protezione Civile, ad oggi abbiamo raccolto 75.524.000 euro e vogliamo ringraziare tutti quanti gli italiani per la loro generosità, generosità grande e piccola, quindi ringraziamo tutti coloro i quali hanno fatto una donazione al Dipartimento. Queste risorse sono già state impiegate per 8.138.500 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. Infine voglio ricordare, se ieri ho ricordato il laboratorio di alto isolamento e biocontenimento dello Spallanzani, voglio ricordare che in Italia esiste un'altra eccellenza, quella dell'ospedale Sacco di Milano, che dai tempi della SARS è stato adeguato e attivato al proprio interno un reparto di biocontenimento BSL4, quindi un reparto altrettanto importante per la lotta agli agenti virali e infettivi che possono coinvolgere la popolazione. Colgo ancora una volta questa sede per ringraziare tutto quanto il personale sanitario che ancora oggi ha fatto registrare decessi nei medici, sono coloro i quali stanno in prima linea e a loro va tutto il nostro sostegno e la nostra riconoscenza. Io mi fermerei qui, darei la parola al professore Bernabèi. Prego, professore. Sì, grazie. Io credo che ci siano un paio di cose che vale la pena sottolineare stasera. Intanto la diminuzione dell'incremento dei ricoverati, che sono passati da 1276 il 26 di marzo a 409 ieri, a 397 oggi. E lo stesso l'incremento dei ricoverati in terapia intensiva che sono passati dai 120 del 26 marzo ai 42 di oggi. Quindi questo è un dato che credo ci dia un po' una fotografia generale dell'andamento e di come il sistema ospedaliero fa fronte a questi numeri, che sono, come dire, in via di contenimento. Per quello che riguarda il mio più specifico, io mi occupo prevalentemente di anziani, credo che valga la pena una piccola riflessione sulle età più colpite. Continuano a essere quelle degli anziani, l'età media dei deceduti è di 79 anni e colpisce sempre il fatto che sono 70% uomini e 30% donne. Le donne sono più resistenti, sono più forti. È il dato che attraversa tutta la popolazione delle malattie associate. Cioè il coronavirus colpisce degli organismi che hanno delle fragilità. Il 52% ha dei deceduti a tre patologie associate, il 25% ha due patologie associate, il 21% ha una patologia associata e qualche spicciolo percento ha nessuna patologia associata. E anche ci sono 23 deceduti sotto i 40 anni, 15 hanno patologie associate, patologie importanti. Quindi a dire che uno dei segnali che tutti quanti dobbiamo darci è quello che chi è che ha qualche patologia è bene che la tratti bene, è bene che la curi con attenzione perché diminuisce il rischio possibile. Questo è un pochino, credo, il messaggio generale da dare a tutti quanti e quindi di essere particolarmente attenti a seguire le terapie e seguire quello che il medico ha detto. Io mi fermo su questo. Prima delle domande vorrei aggiungere anche seguire le indicazioni che sono state date dalle autorità e in particolar modo anche dal governo perché se noi vogliamo sconfiggere questo virus dobbiamo adottare corretti comportamenti, quindi mantenere il distanziamento sociale. Su questo non ci stancheremo mai di dirlo. Un giorno arriverà il momento in cui potremo non rispettare questa regola ma in questo periodo e per i prossimi tempi questa regola per noi deve essere una regola ferrea. A voi le domande. Volevo capire il numero degli operatori sanitari contagiati e anche purtroppo deceduti è enormemente più alto rispetto per esempio a quello della Cina, almeno i dati disponibili. Ma vi siete fatti un'idea del perché questo avvenga? Ci sono evidentemente, c'è stata una sottovalutazione, o magari gli spazi sono più ristretti negli ospedali italiani rispetto a quelli cinesi. C'è un motivo? Ci state lavorando su questo? L'altra invece è per il professore, sulle patologie associate. Oggi l'Istituto Superiore di Sanità ci ha fatto vedere quali sono queste patologie. Ci sta per esempio, la più frequente è l'ipertensione arteriosa e penso abbiano quasi tutti i pazienti sopra una certa età, ma anche le altre, la cardiopatia ischemica, diabete, fibrillazione atriale, cioè sono patologie molto comuni. Siamo certi che siano queste a rendere più fragili e più esposti poi le persone che muoiono alla polmonite che viene in seguito al Covid. Io lascerei tutte e due le domande al professore, se può rispondere lui. Anche se devo dire che per gli aspetti epidemiologici, né io né il professore abbiamo competenze per poter rispondere alla sua prima domanda. Credo che su questo o su tutte e due le domande. Sì, sulla prima domanda evidentemente è molto difficile e sono quelle domande a cui si risponderà tra un po' quando, come si dice, quando tutta la situazione sarà stato possibile analizzarla, allora uno retrocederà alle cause. E lo chiederemo certamente agli epidemiologi che sono certamente più bravi di me. Per quanto riguarda la seconda, si è dimenticato un'altra patologia che è l'insufficienza renale, tra quelle che lei ha citato. Cardiopatia ischemica, ipertensione, fibrillazione atriale, diabete. Beh, sono le patologie più frequenti dopo una certa età. E il problema non è tanto quello di dire ce l'ho e quindi che cosa succede. Il problema è di gestirle bene. Il problema è quello che dicevo prima, di curarle con attenzione. Lei lo sa che l'ipertensione, il 50% è non aderente, non è aderente alla terapia in modo ottimale? Sa, e queste sono le cose che poi fanno la differenza. Perché queste patologie sono patologie tipiche della terza età, il problema è di curarle bene. Lei pensi solo alla cardiopatia ischemica o alla fibrillazione atriale? Entrambe danno dei deficit di perfusione, evidentemente. Se poi ci aggiunge anche un polmone che funziona male, 2 più 2 dà le conseguenze che ci aspettiamo negative. Buonasera, Lorenzo De Cicco, del Messaggero. Volevo chiedere, al di là delle date che naturalmente fisserà il Governo, quando la curva dei contagi inizierà a scendere, quali possono essere i passaggi, insomma, le fasi per una graduale riapertura dell'Italia? Grazie. Ma guardi, questo è uno degli argomenti su cui il Comitato su sollecitazione del Ministro della Salute ha cominciato a lavorare da ieri. Ci lavoriamo. Bene lavorarci. E bene lavorarci per dire delle cose che siano semplici, efficaci e che abbiano senso. Abbiamo appena cominciato. Buonasera, Angelo Zaccone Teodosi per Riformista. Io torno su un argomento. Allora, rientriamo in studio dopo aver ascoltato la conferenza stampa quotidiana della protezione civile di particolare interesse. Era l'ultima domanda che abbiamo sentito, cioè quali saranno le tappe della riapertura del Paese. È una decisione su cui, come abbiamo sentito poco fa, ancora si discute. La discussione è appena iniziata, il che fa dedurre inevitabilmente che tutto questo non accadrà così rapidamente la data del 4 di maggio per un ritorno, diciamo, alla normalità pressoché totale del periodo precedente allo scoppio dell'emergenza. È quella che resta in questo momento la più probabile, ma staremo a vedere anche in base all'andamento, ovviamente, del contagio nei prossimi giorni. Prima di riprendere con i nostri collegamenti in giro per la Toscana, torniamo a quanto è accaduto la notte scorsa a Piombino. Come sapete, a Piombino è arrivata ieri la nave della Costa Crociere, la Costa Diadema, con a bordo un equipaggio di 1.255 persone, tra cui alcune persone risultate positive al tampone che sono state fatte scendere, portate in ospedale per le cure. C'è un lavoro che ancora va avanti a Piombino dopo quanto è accaduto, appunto, nelle ultime 24 ore. Nel servizio vediamo il momento in cui, nella notte, la nave ha lasciato il porto toscano. Dopo giorni trascorsi in mare a vagare tra un porto e l'altro, fortunatamente la Costa Diadema è riuscita ad approdare nello scalo piombinese. Comprensibile, dunque, la gioia dei membri dell'equipaggio che, in nottata, hanno inteso ringraziare la città di Piombino, accendendo e spengendo le luci dei loro cellulari. È un gesto di responsabilità a cui non ho voluto sottrarmi, ha detto il sindaco di Piombino Francesco Ferrari. Non potevamo rifiutare una nave battente bandiera italiana. Io ho chiesto rassicurazioni perché un sindaco è, prima di tutto, responsabile della salute pubblica dei propri concittadini. Le rassicurazioni sono arrivate, per cui i passeggeri, o meglio, i membri dell'equipaggio, non avranno contatto alcuno con i miei concittadini. Questa è una bella rassicurazione. Io, dopo questo, non ho titubato un attimo. Ho ritenuto doveroso rispondere affermativamente. I malati verranno trasferiti quanto prima negli ospedali attrezzati, gli altri, dopo le misure, precauzionali imposte dai protocolli Covid-19, raggiungeranno in totale sicurezza le proprie residenze. Intanto la città, orgogliosa della decisione assunta dalle autorità locali tramite i social, fa arrivare il proprio calore ai membri dell'equipaggio, che certamente non dimenticheranno cuore e generosità di una città da sempre solidale. Massimo Gratti ha seguito nella notte la ripartenza della nave, ma un fatto questo l'abbiamo seguito anche con l'altro nostro corrispondente, il nostro Luca Nuedi, che ritroviamo adesso di nuovo a Lucca per continuare a fare il punto sulla situazione sia nel territorio lucchese, che in generale in quello dell'Azio Toscana Nord-Ovest abbiamo detto più volte l'area della Toscana maggiormente colpita o nella quale quantomeno la situazione si può considerare più grave. Luca, dici tu. Sì, si registrano qua a Lucca, secondo dati che sono stati appena diffusi, purtroppo due decessi. Questa ovviamente terribile notizia è però compensata in qualche maniera con un numero di infetti il più basso, forse uno dei più bassi comunque dall'inizio della crisi sanitaria che stiamo vivendo. Questo può essere il segno del raggiungimento di quel famoso picco piatto, quel plateau di cui si parla tanto, cioè quella curva, quell'apice della curva che però si estende nel tempo. Questo forse è un segnale positivo, questa è sicuramente la zona più colpita, però sono stati aumentati i tamponi e i casi registrati positivi sono sicuramente in aumento, ma in aumento molto più lieve. Quindi forse questo è il segnale appunto dell'inizio, della fine, se così possiamo dire. Un altro bel gesto, un buon segnale, arriva dalla raccolta fondi che l'Asda Toscana Nord-Ovest ha avviato, una raccolta fondi destinata ovviamente ad aiutare il personale con delle attrezzature che vengono comprate. Questa raccolta fondi ha raggiunto i 2 milioni di euro quasi, quindi 500 mila euro in donazioni dirette sul conto corrente dedicato e 1 milione e 4 più o meno di attrezzature comprate e donate. Quindi queste attrezzature come respiratori, DPI e tutto quanto necessita nelle nostre corsie. Questo sicuramente è un bel segnale, segnale di vicinanza e insomma un aiuto fondamentale per chi è in trincea a combattere questa guerra per noi. Grazie Luca, grazie al nostro Luca Lunedì. Nel Lucchese ci diceva 22 positivi in una RSA, quella di Gallicano, questo ragionamento, 22 positivi su 44 persone, mentre in quella della provincia di Arezzo di cui parlavamo qualche minuto fa, quella di Montevarchi, i positivi nella RSA, nella Casa di Riposo, sono 23 di questi, sono 6 operatori, questi sono gli aggiornamenti che continuano ad arrivare. Torneremo sul fronte dei contagi e sui numeri più avanti. Ora però apriamo un altro collegamento Skype. Legato con noi c'è il Presidente di Toscana Neoporti. Marco Carrai, buonasera. Carrai, ben trovato nel nostro primo piano. Buonasera. Perché c'è una notizia, un comunicato che la società che gestisce due principali scali toscane, quello di Firenze e quello di Pisa, in questo momento particolare, ha diffuso nelle scorse ore e che riguarda la volontà, come dire, di tutelare il vostro patrimonio. In questo momento è complicato. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi di come l'attività all'interno degli scali ovviamente si sia ridotta praticamente all'osso. Ma ci spieghi meglio lei. Sì, oggi noi abbiamo deciso come Consiglio di Amministrazione di superare la proposta che era stata presa dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo scorso che destinava parte degli utili come distribuzione di dividendi e invece abbiamo deciso di accantonare a riserva straordinaria quella parte degli utili che era stato deciso di distribuire come dividendi. Questo per due motivi. Il primo perché contribuisce alla strategia di consolidare la tenuta finanziaria della società. Il management della società ha messo in essere tutte le iniziative volte a tenere sotto controllo la società dal punto di vista patrimoniale e finanziaria che grazie a queste iniziative non corre alcun tipo di rischio. Ma per essere ancora più sicuri perché non sappiamo quando potrà ripartire in toto in modo molto forte il business aeroportuale abbiamo deciso quindi di consolidare ancora di più il patrimonio e la sua tenuta finanziaria non distribuendo e questo è un motivo societario. Poi c'è invece un motivo sociale che mi consente e forse è ancora più importante perché come le ho detto la società è forte finanziariamente, patrimonialmente e quindi quello che oggi abbiamo fatto è solo un di più. Invece la parte forse ancora più importante è la parte sociale perché noi abbiamo deciso di non distribuire gli utili in quanto dovendo fare le misure necessarie aver fatto ricorso anche alla cassa integrazione per i nostri dipendenti ci sembrava non bello, mi consenta questa affermazione, distribuire gli utili ai nostri azionisti. È vero che le società nascono e crescono anche per massimizzare, anzi anche e soprattutto per massimizzare i profitti e soprattutto quelle quotate ma c'è un tempo nel quale anche il profitto bisogna che si fermi e bisogna che ceda il passo all'attenzione alla società, all'attenzione alla comunità e quindi come gesto anche nei confronti dei nostri dipendenti al quale oggi chiediamo questi sacrifici abbiamo deciso di non distribuire il dividendo. Questo si somma anche a un'altra iniziativa che la società ha fatto insieme alla Fondazione Antecassa degli Sparmi di Firenze, a Firenze Parcheggi e alla Mice del Pronto Soccorso di Careggi abbiamo comprato dei respiratori che sono arrivati proprio due giorni fa all'aeroporto di Firenze per donarli all'Asl Toscana Centro. Questo è la parte di Charities ma poi c'è la parte anche societaria e sociale che ci sembra giusto dover fare e per questo abbiamo proceduto in questa delibera che proporrà appunto all'Assemblea dei Soci convocata il 15 maggio di non distribuire il dividendo ma di tenerlo tutto a riserva straordinaria. Ecco Carrali diceva c'è un tempo in cui è giusto procedere alle azioni di questo tipo, quando finirà questo tempo, questo periodo è la grande domanda, lei in parte ha già risposto precedentemente dicendo non sappiamo quando è che potremo ripartire con la totalità delle delle operazioni e del lavoro. Le chiedo dal suo osservatorio anche qual è il sentiment diciamo così a livello internazionale visto che insomma le compagnie aeree si trovano a loro volta a dover fare conti con la pandemia e con un percorso del contagio per così dire che come abbiamo visto in Italia in poche settimane adesso stiamo rivedendo in giro per il mondo. Lo ha detto bene lei, il settore diciamo aeroportuale sarà probabilmente il settore più colpito per due motivi, il primo perché è come dire sta seguendo ciclicamente il globo e quindi è iniziato dal Far East poi si è spostato in Europa e ora sta andando negli Stati Uniti e quindi se come mi auguro e come ci dicono gli esperti che bisogna naturalmente seguire è prevista una riapertura nelle modalità che poi saranno decise a partire da dopo Pasqua e quindi immagino anche poi con inoltrarsi del maggio saranno previste anche la riapertura degli aeroporti e però come sapete negli aeroporti si arriva da un'altra parte, dalla parte di cui si parte e quindi se alcuni paesi che hanno avuto la pandemia dopo di noi e che hanno anche preso delle misure più in ritardo rispetto a come non siano state prese in Cina o anche da noi è chiaro comunque che noi dovremmo seguire anche quelle nazioni per avere riaperti i voli e quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è più di natura sociale diciamo quando ci sono state le problematiche legate a attentati piuttosto che a guerre abbiamo visto che il business aeroportuale è ripartito molto velocemente perché comunque il nemico era passato, il fatto era superato. Oggi noi non sappiamo come potranno rispondere le persone in questa diversa socialità che ci aspetta, se e come e in che modi e in che tempi avranno voglia di rimettersi in viaggio e quindi di stare all'interno di un aereo più vicino eccetera. Io credo che con il tempo l'uomo è un animale sociale e quindi la sua voglia di vita, di libertà e di conoscenza e di anche di rimettersi in moto prevarrà naturalmente nel medio e lungo termine. Per quanto riguarda il breve è difficile fare previsioni, molte delle compagnie aerei come sapete hanno messo la totalità degli aerei a terra e prevedono una riapertura per gradi. Ecco noi abbiamo la fortuna di stare in un territorio altamente attrattivo per due motivi, per un motivo di business perché comunque la Toscana è una delle grandi aree manufatturieri d'Italia e quindi d'Europa e quindi del mondo e quindi ripartendo anche le industrie, le fabbriche ripartirà sicuramente anche il settore aeroportuale e poi perché viviamo in dei territori straordinariamente belli dove la gente, le persone, i turisti vorranno continuare a venire. Questo non cambierà. Le chiedo un'ultima cosa rapidamente in conclusione Carrai, in qualità di console di Israele in Toscana perché c'è un'agenzia di pochi minuti fa che racconta di come l'ufficio stampa di Benjamin Netanyahu abbia parlato di significativi passi in avanti sulla produzione di un vaccino contro il Covid-19 proprio fatto in Israele. Non so se lei a conoscenza appunto di questi episodi si ha notizia di questo. Guardi, io sono in contatto praticamente quasi quotidiano con le autorità israeliane anche per, come dire, mettere in contatto le autorità toscane, regionali sanitarie toscane. Il presidente Rossi, che ringrazio per come si è mosso in questa circostanza, mi ha chiesto anche di organizzare un incontro con le autorità sanitarie israeliane per capire anche la loro metodologia di approccio e di processo poi alla riapertura delle attività eccetera. E poi anche perché anche in Israele, soprattutto l'istituto biologico israeliano, biologico e batteriologico israeliano hanno allo studio un programma relativo alla produzione di anticorpi per combattere il Covid-19. Noi in Toscana con TLS abbiamo una fondazione no profit di ricerca che si sta muovendo proprio in questo settore e quindi è mia intenzione, ne ho parlato poco poche ore fa con il presidente della regione, capire se possiamo mettere insieme anche all'Università di Firenze in contatto con queste istituzioni per accelerare il più possibile. È chiaro che Israele è molto all'avanguardia in questo settore, non eludo la sua domanda, il vaccino di cui si sta parlando, a volte le cose accadono anche per caso, era un vaccino studiato per diciamo i polli, ok? E questa malattia che in gergo medico viene chiamata SARS-2, noi chiamiamo Covid-19 ma è la SARS-2, ha molte vicinanze con quel settore e quindi da lì è partito uno studio che è già molto avanzato e che io spero nel giro di poco tempo possa arrivare ai trials umani e clinici. Ce lo auguriamo tutti! Con noi stiamo in contatto e stiamo monitorando e speriamo che tutto il mondo si unisca nella ricerca per arrivare il prima possibile alla soluzione definitiva di questa problematica. Senza dubbio, grazie. Grazie a Marco Carrai, Presidente dell'Aveoporti. Grazie a voi. Apriamo adesso subito il collegamento con la Nazione, cioè il direttore Agnese Pini collegato con noi. Buonasera Agnese. Buonasera. Evidentemente giornata di notizie positive, intanto ci arrivano segnali positivi come detto dal vaccino, come ci raccontava poco fa Carrai che è anche console di Israele su questa ricerca che potrebbe peraltro essere portata avanti anche in parallelo in Toscana e poi l'Istituto Superiore di Sanità che dice siamo al plateau, insomma, come dire, il piccolo l'abbiamo raggiunto. È forse la prima volta che un segnale positivo viene detto con questo tipo di chiarezza? Ecco, è stata abbandonata un po' la prudenza degli ultimi giorni. Sì, sono segnali incoraggianti che effettivamente arrivano da una scia di giorni con segni di ripresa che si sono poi riversati anche sulle reazioni ad altri livelli di attori che partecipano all'emergenza, alla politica, all'economia. Oggi effettivamente è la prima volta in cui con chiarezza si sciolgono anche le riserve delle voci più prudenti e quindi possiamo forse davvero con meno remore di prima sorridere e pensare che forse sì, i nostri sforzi duri e difficili di queste settimane che hanno visto un impegno senza precedenti da parte di tutti i cittadini italiani, ecco, dicevo, i nostri sforzi stanno portando dei frutti concreti. Questo morbo si può davvero frenare e sconfiggere. I numeri di oggi ce lo stanno dimostrando. Sì, i numeri in Toscana sono, se facciamo il paragone soprattutto con quelli di 24 ore fa, se guardiamo in particolare la percentuale appunto dei tamponi positivi su quelli analizzati, si tratta di numeri molto più bassi, sicuramente un segnale incoraggiante. C'è però allo stesso tempo quella previsione che è stata fatta ieri che dice che la Toscana, come dire, sarà l'ultima regione a uscire da questo periodo di emergenza. Sì, ecco, è vero. Su questo però ci sono dei dibattiti tra virologi e scienziati, non sono tutti unanimi nel dare questa lettura rispetto ai grafici e alle stime a cui stiamo assistendo in questi giorni. Il tema poi, come lo è in tutte le pandemie globali, e questo ne è un esempio assolutamente evidente. Non è quando una regione uscirà effettivamente dal contagio, cioè qual è la regione in cui ci sarà l'ultimo contagio. È una domanda mal posta. È ovvio che in un fenomeno che interessa tutto il territorio, non solo nazionale, ma continentale e intercontinentale, dobbiamo uscire tutti quanti dalla pandemia. L'ultimo contagio, quando ci sarà l'ultimo contagio, quale sarà la regione con l'ultimo contagio, diventa tutto sommato irrilevante. La domanda giusta è quando usciremo, quando potremo iniziare a ragionare sul serio di una riapertura, di un'uscita. Cioè uscire dalla crisi significa riaprire in modo progressivo il Paese, quindi far ripartire una serie di meccanismi che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza economica, per la nostra tenuta economica e quindi anche politica e sociale. Ecco, quando potremo cominciare a fare questo? È questa la domanda fondamentale. Occorre arrivare al momento in cui questa domanda diventerà poi concreta, preparati. Occorre prepararsi fin da ora al momento in cui progressivamente a scaglioni, a tappe, come si sta dicendo in questi giorni, potremo riaprire e ripartire. Grazie al Direttore della Nazione Agnese Pini, buon lavoro ovviamente al giornale, a lei e a tutti i colleghi che ovviamente stanno facendo una volta un grande sforzo in questo periodo e che ci accompagnano anche quotidianamente nel nostro primo piano, che adesso apre un'altra finestra sul territorio. Andiamo a Prato con Francesco Storai, ma cambiamo registro, diciamo così, del nostro racconto, perché parliamo di un'iniziativa che riguarda gli animali domestici, è un'iniziativa che però si lega ovviamente alle difficoltà di questo periodo per le persone che vengono contagiate. Francesco? Assolutamente sì, Luca, perché nel dramma del Covid-19, del virus, chi ha un cane, chi ha un animale di compagnia lo sa bene, i nostri animali, i nostri amici a quattro zampe non possono essere ovviamente dimenticati in questa fase così complicata e così difficile. Qui a Prato l'amministrazione ha inaugurato, sta inaugurando proprio in questi giorni un nuovo servizio, ce lo facciamo raccontare dall'assessore che appunto ha organizzato tutto quanto. Buonasera, buonasera a tutti, vi ringrazio per la possibilità di in qualche modo testimoniare la volontà delle amministrazioni, in questo caso dell'amministrazione di Prato, in questo momento di difficoltà di essere vicini anche a coloro appunto che si trovano in una situazione di estremo disagio o perché magari sono ricoverati in ospedale o magari stanno attraversando la fase della quarantena e sono proprietari di un animale d'affezione e non sanno oltre appunto alle preoccupazioni per la propria salute, si trovano anche a dover affrontare il problema di come gestire appunto l'animale. È ovvio che se c'è una rete familiare sarà la rete familiare che farà da supporto, ma laddove questo non c'è l'amministrazione in collaborazione con due associazioni ha inteso appunto creare questa rete di sostegno che a nostro avviso darà sollievo ai proprietari degli animali che oltre alla propria salute si devono e si preoccupano anche del benessere del proprio animale. Certamente sarà un pensiero in meno per queste persone, ma come funziona? Chi bisogna contattare per usufruire di questo servizio? Allora, questo servizio ovviamente è in funzione per il Comune di Prato. Esiste un cellulare che appunto le persone possono trovare sul sito del Comune, è attivo dalle 8 alle 20 la sera, si scarica un modulo nel quale si compilano quelli che sono diciamo così le condizioni, la razza dell'animale, tutta una serie di informazioni che fanno sì che i volontari quando si recano a casa sanno già appunto chi si trovano di fronte e soprattutto questo ci tengo a ribadirlo, che questa attività osserverà quelli che sono i dispositivi di sicurezza così come previsti dall'ASL perché dobbiamo salvaguardare anche ovviamente la salute dei volontari che collaborano con l'amministrazione. Studio. Sì Francesco, a posto, grazie per averci raccontato questa bella iniziativa, era giusto comunicarla insomma ai cittadini che magari si preoccupano anche di quale sarà il destino in questi giorni dei loro animali domestici, abbiamo visto in questi giorni anche ingiustamente spesso accusati di poter trasmettere a loro volta il contagio, ma insomma l'abbiamo spiegato anche una più riprese non è così. Torniamo a parlare di economia e di imprese adesso in questo momento di difficoltà e di un'iniziativa che vuol dare un aiuto concreto alle imprese spesso più giovani, alle start up, alle imprese innovative che si riuniscono all'interno di uno spazio che si chiama The Working e che è stato fondato da Emiliano e Daniele Caselli che sono collegati con noi tramite Skype. La vostra idea è stata quella di non chiedere a chi lavora nello spazio che voi avete messo a disposizione l'affitto di marzo, ecco perché questa scelta. Buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera. L'idea nasce per questo, giusto per far capire anche il motivo di base. Noi siamo un co-working che è nato circa un anno fa a Firenze e si è incentrato proprio all'interno delle famiglie dei co-working classicamente definiti, cioè quelle strutture dove le start up, i giovani imprenditori riescono a sviluppare le prime idee di base per lanciare proprio un progetto di impresa e su questo siamo uguali a molti altri co-working che ci sono all'interno anche del Comune di Firenze e quindi di intorni. Un'altra nostra propria curiosità molto importante è il fatto che noi strizziamo l'occhio anche alle imprese già strutturate e soprattutto a quelle imprese che negli anni passati avevano per motivi di vario tipo cominciato a soffrire di determinate problematiche connesse al mondo dell'imprenditoria e dell'impresa e quindi avevano costi troppo alti eccetera. Abbiamo noi aperto in questo nostro co-working che di differenza dagli altri ha il fatto che è collegato a nostre altre società sempre nel nostro stesso lotto di Sesto Ferentino che lavorano nella logistica, nel packaging, nell'e-commerce, dando quindi molte soluzioni a tante imprese che già sono strutturate e quindi abbiamo aperto la condivisione dei servizi aziendali, come dicevo appunto prima della logistica, magazzino, packaging eccetera. Quindi lavorando da un anno, perché abbiamo aperto circa un anno fa, abbiamo già diverse aziende, eravamo riusciti a riportare, a rinstarare nei binari per un giusto e nuovo andamento. L'arrivo di questo coronavirus però ha tirato un grande colpo di scuro anche su queste attività che stavamo aiutando noi e quindi per non veder buttato via tutto questo lavoro fatto nell'ultimo anno abbiamo deciso, con non poco sforzo devo essere sincero perché anche noi siamo un'azienda e quindi in quanto tale abbiamo dei costi da sostenere inizialmente, ma abbiamo deciso di azzerare tutti i costi per l'utilizzo degli spazi e dei servizi della nostra struttura per tutti gli inzo worker che sono presenti presso di noi. Ecco vi faccio una domanda da imprenditori, diciamo così, come vivete il momento, che timore avete e come vi schierate per così dire anche rispetto al dibattito che c'è in corso, cioè se sia opportuno come dire stringere i tempi il più possibile per far ripartire tutte le imprese in generale oppure se è la cautela, la stella polare che dobbiamo seguire. Allora questo è un mio punto di vista personale proprio sulla vicenda coronavirus. Allora senz'altro per me riusciremo ad uscire da questo incubo solo nei momenti in cui verranno definiti tutta una serie di farmaci che permetteranno di far sì che questa influenza, se così la possiamo chiamare, non porterà i pazienti a finire in rianimazione. Quindi se noi riusciremo a togliere quel passaggio di evoluzione così negativa che portano i pazienti in rianimazione, allora questo secondo me sarà il vero momento in cui potremo avviare a rivedere una grossa luce davanti che si apre. Daniele non so se è d'accordo con il tuo pensiero anche sulla riapertura delle attività. Continuare a stare ferme, questa è una cosa in dubbio, dobbiamo cominciare anche a creare delle modalità perché se questo non potrà avvenire nel breve periodo, dovranno essere fatte organizzazioni, dovranno essere strutturate tempistiche del mondo imprenditoriale che consentiranno di poter lavorare e portare comunque avanti il mondo economico. Bene, grazie, grazie allora da Milano e Daniele Caselli. Noi adesso ci spostiamo, torniamo sul territorio e andiamo a Fiesole perché c'è la nostra Patrizia Venghini in compagnia del sindaco Anna Ravoni che nelle ultime ore ha lanciato sui social alcune accuse per così dire, ma ci facciamo spiegare meglio. Patrizia. Sì, è proprio così Luca, siamo nella bellissima Fiesole come vedrete dalle immagini vuote, completamente vuote, le immagini che abbiamo girato alcuni minuti fa insieme alla sindaca Anna Ravoni che in un post su Facebook ha detto sono molto arrabbiata. Perché sindaca? Sono molto arrabbiata perché i cittadini ancora non hanno capito, non hanno capito le mamme che portano i bambini o mandano i ragazzini appunto a giro ancora per il territorio ma non hanno capito soprattutto le persone più anziane che escono 4-5 volte al giorno per andare a fare la spesa o per andare in farmacia, ce lo dicono i negozianti e quindi è un dato certo e che chiaramente approfittano di questo per far conversazione nella piazza ma soprattutto lungo l'Arno e lungo il Mugnone. Domenica è stata una giornata proprio di piena in queste due zone e soprattutto anche nelle varie stradine un po' coperte, mi riferisco ad esempio a Maiano, mi riferisco a Via delle Fontanelle, ai luoghi dove arrivano i fiorentini per fare la passeggiata e questo non va bene, non va bene perché se ne vogliamo uscire dobbiamo stare in casa. Tra l'altro voi avete fatto una serie di controlli, ci sono numeri abbastanza significativi? Sì abbiamo fatto 596 controlli, ho proprio il dato a mezz'ora fa appunto ne ha dato il comandante e 80 attività anche che sono state controllate e quindi ecco 596 persone fermate a cui è stato chiesto di rientrare in casa, non abbiamo ancora fatto le sanzioni perché mi sembra che prima va educata le persone, però a questo punto incomincieremo a farle perché non è più possibile davvero andare avanti in questo modo, mettere a repentaglio la vita di tutti, oltretutto noi abbiamo una ventina di positivi fra i ricoverati e quelli che sono fortunatamente rientrati a casa e che sono in via di denegativizzazione e quindi ecco anche per loro, anche per tutti noi per non prendere niente, per non avere maggiori contagi, devono stare in casa. Se questo non lo vogliono capire inizieremo con le sanzioni. Ecco lei diceva, ora è uscito il sole come vedete, ma fa molto freddo, lei dice che appena esce il caldo e quindi c'è da aspettarsi anche nei prossimi giorni la passeggiata fuori porta, perché lei dice fiorentini? Dico fiorentini perché abbiamo fra i controllati ci sono dei fiorentini chiaramente, perché in questi luoghi, ad esempio a Via delle Fontanelle che è dove c'è la scuola di musica a San Domenico, la gente sale su da Via Boccaccio che sembra lo struscio di una cittadina in questi giorni, sale su da Via Boccaccio e arriva appunto a San Domenico e prende Via delle Fontanelle, convinti che là non vanno, nessuno va a cercarli non vanno i carabinieri, non vanno i vigili urbani, invece ci vanno, perché chiaramente lo sappiamo e quindi ci rimandiamo, ma anche altre zone, le zone più nascoste sono davvero meta di persone anche fuori del comune, poi anche i cittadini fiesolani, ci vorrebbe altro perché anche loro sono indisciplinati e per questo mi sono arrabbiata. C'è da dire che a questo sfogo su Facebook lei ha ricevuto un plauso anche dalle opposizioni in comune? Sì, infatti per fortuna in questa fase non c'è una vera opposizione ma mi stanno tutti aiutando in questo e di questo ne sono veramente felice perché non è il momento delle polemiche, non è il momento soprattutto delle polemiche politiche e quindi le ringrazio perché davvero sia la destra sia la sinistra sono veramente molto bravi e ci aiutano anche in questo. Preoccupata Fiesole essendo a vocazione turistica come Firenze per le conseguenze che questa emergenza che speriamo finirà tra poco, lo diciamo insomma a maggio, si spera che sia finita questo momento, ecco quali sono le preoccupazioni più grandi? Eh certo, noi abbiamo tutti i vari alberghi, B&B, agriturismi che hanno chiaramente cancellato tutte le prenotazioni fino a maggio compreso. Noi speriamo che a giugno si possa ripartire, a giugno abbiamo l'estate fiesolana sul quale per ora ci stiamo puntando e per ora non l'abbiamo fermata e quindi ecco noi speriamo che sia un po' la rinascita di Fiesole in quel momento e quindi speriamo che anche tanti turisti possano tornare qua da noi e possano quindi invadere questa cittadina che appunto come diceva lei all'inizio è una perla. È una grande perla, Luca hai domande per la nostra ospite? No Patrizia, eventualmente aspettiamo le risposte dei fiorentini ma insomma quelle le racconteremo con calma nei prossimi giorni se vorranno replicare. Grazie a Patrizia Menghini, grazie al sindaco di Fiesole Anna Ravoni per essere stati in collegamento con noi. A proposito di uscite di casa, scendere sotto casa per prendere un po' di aria è un diritto anche dei bambini che oggi sono gli unici a non averlo, lo hanno persino gli anziani, bisogna stare a casa ma se si pensa ai bambini che abitano in un piccolo appartamento chiusi da quasi un mese allora mi chiedo se non abbiano il diritto di uscire mezz'ora sotto casa e poi rientrare, lo ha detto il sindaco Dario Ardella che abbiamo avuto un collegamento in apertura del nostro primo piano, l'ha detto in occasione del minuto di silenzio a mezzogiorno ma questo tema evidentemente delle uscite dei bambini continua ad essere estremamente d'attualità tant'è che il sindaco Ardella ha raccontato di averne parlato addirittura con il ministro all'interno Lamorgese che si è dimostrata, ha detto molto sensibile e attenta a questa esigenza e quindi una sensibilità che può dare un'indicazione a tutto il territorio cioè di far uscire e di concedere ai bambini di poter uscire di casa, in realtà non è vietato passeggiare vicino a casa per un breve periodo di tempo, non è vietato neanche ai bambini, ovvio che i bambini da soli possono farlo più difficilmente. La gestione dei bambini in questo periodo è uno dei temi di grande difficoltà per le famiglie, bambini che non vanno a scuola, probabilmente esclusi quelli che dovranno fare la maturità non torneranno in classe per quest'anno ma aspettiamo ovviamente decisioni ufficiali in questo senso. Le lezioni si fanno a casa, i genitori come si devono comportare? Una pedagogista ci ha dato alcune indicazioni. Totale incertezza sul ritorno in classe, anzi prende sempre più corpo l'ipotesi che l'anno scolastico ripartirà solo per gli studenti che dovranno affrontare la maturità. Un impegno notevole per chi ha figli più piccoli, soprattutto in età da scuola elementare e media. Per loro che dovranno continuare a studiare da casa, il primo consiglio degli esperti è ricreare una routine quotidiana. Bisogna lavorare sulle routine, bisogna darsi fin da subito una programmazione a tempi brevi e a tempi lunghi, nel senso che il genitore si mette lì, fa una specie di summit familiare e inizia con i bambini subito a organizzarsi una sorta di agenda di attività sia di tipo di apprendimento sia ludiche e anche a tutti i tempi della giornata. E' la cosa migliore, mantenersi vicini, aderenti alle routine che comunque i bambini hanno a seconda delle fasce d'età. Altro consiglio per i genitori è quello di non sostituirsi agli insegnanti in questo periodo per non generare conflitti tra figure che devono rimanere ben distinte, soprattutto per i bambini degli elementari. Per responsabilizzarli sarebbe invece utile ricavare in casa uno spazio a loro riservato per lo studio. Dovete pensare a un posto dove loro possano partecipare alle video lezioni che sia solo loro, che non ci sia la mamma che passa con lo stendino, che non ci sia il papà che passa col telefono. Cioè un luogo privato che un po' gli dia la dimensione di essere in classe. Francesca Romeo, tu hai ricreato una routine quotidiana con il tuo piccolo? A voglia di routine. Innanzitutto ciao Luca, un saluto davvero a tutti voi, mi mancate veramente molto, tantissimo, ma complimenti per il lavoro straordinario che veramente state facendo. Grazie Francesca, anche tu ci manchi molto, c'è un gran silenzio in questi studi da qualche settimana. Che non ci sono io? È così, dai, però recupereremo. Scherzi a parte. Francesca Romeo, la conduttrice di Tadà, volto ormai della famiglia di RTV 38 da tanto tempo. Ti stiamo vedendo in qualche immagine all'opera e non vediamo l'ora di rivederti all'opera Tadà anche perché il momento della ripartenza di tutte le trasmissioni sarà anche il segnale che si può continuare ad uscire, che gli ospiti possono tornare negli studi televisivi. Dunque tutto sarà tornato alla normalità. Come va in questo momento di isolamento? Che fa una conduttrice in isolamento a casa? Fa di tutto, fa la casalinga, fa la mamma, fa tutte quelle cose che non riesce a fare anche quotidianamente, impegnata naturalmente nel lavoro e in tutto il resto. Ma io personalmente ho rimesso a posto la lista delle priorità, perché avendo più tempo capisci quali sono le cose importanti e io essendo anche per natura una persona abbastanza positiva che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, ho cercato di odimizzare tutte le risorse, quindi anche la risorsa tempo, per cui gioco molto con mio figlio, cucino, faccio i tutorial, la sto vicina comunque attraverso i social a tutto il mio pubblico, ai miei effetti veri e ho capito veramente molto. Ecco, nella sfortuna comunque non avendo particolari problematiche di salute intorno a me, ho avuto occasione, ho occasione tutti i giorni di migliorare la mia vita. Ecco, e quindi questo è un invito che voglio fare a tutti. Io non sono un medico, non salvo vite, non sono un'infermiera, però il messaggio che mi sento di dare al mio pubblico, a chi mi segue è questo. Cercate di trovare veramente anche quella briciola di positività per ottimizzare il tanto tempo che abbiamo a disposizione adesso per stare in casa. Guarda Francesca, possiamo anche farlo vedere in questo breve filmato come trascorrono le giornate in Casa Romeo, guardiamo. Siamo in diretta? Nonna? No, siamo in diretta, non ti vedi? Nonna, tu sei te, la nonna. Ah, te. Tutti e tre, guarda, la famiglia Brambilla. No, mi chiamo Brambilla io. Come ti chiami? Mi chiamo Papi. Come ti chiami, nonna? Papi. Papi Maria Antonietta. Papi Maria Antonietta. Sono la nipote di Ines e dei obiettivi di Conti Tulli. Ah? One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store. So I run the corner. The boy said he wants a drink and a drink and a drink and a drink, but I really don't wanna. Ma che sta lì? non abbiamo voluto esagerare ci siamo limitati ai due video diciamo tra i più recenti avremmo potuto far di peggio sì ma va bene così in fondo come puoi ben constatare non cambio molto io dalla vita di spettacolo guarda chi c'è eccolo un altro grande protagonista dei social di Francesco Romero lui è il vero protagonista saluta a tutti siamo in diretta su RTV38 saluta ciao lui magna chissà come gli manca la scuola da morire è andato al cancello l'altro giorno del giardino ovviamente io dicevo Federico scusa ma cosa stai facendo ringrazio il coronavirus così sto a casa e stai a casa insomma non è proprio non è proprio il massimo ecco un grande saluto a tutti anche alla nonna ovviamente Francesca ci vediamo che è di là che si è vista su RTV38 attenzione ora che cosa dirà dimmi saluta saluta ti posso dire una cosa sì cosa c'è ho fatto la casa eccoci il bello il bello della diretta il bello della diretta te sei genitore da poco lo scoprirà anche io su quell'argomento è un argomento molto attuale in questo momento grazie grazie Francesca a presto ce lo auguriamo allora prima di ci avviamo alla conclusione prima però di salutarci il servizio di Patrizia Venghini che ci ricorda che indossare le mascherine è bene ma bisogna scegliere quelle giuste mascherina fai da te non certificata CE ai 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 verrebbe da dire riprendendo un famoso spot della fine degli anni 80 dove si invitava ironicamente a non fidarsi dei viaggi improvvisati con maggiore serietà anche gli ingegneri dell'ordine professionale di Firenze lanciano un appello a non fidarsi dei dispositivi sanitari vedi mascherine o respiratori realizzati in casa senza marchio CE e l'indicazione esatta del tipo di materiale col quale sono stati realizzati con la carenza di questi strumenti soprattutto sui vari social e su internet in generale spuntano come funghi tutorial e consigli per realizzare in casa mascherine per proteggersi da coronavirus senza contare l'ondata di solidarietà che in buona fede ha prodotto una mola imponente di dispositivi assolutamente improvvisati il rischio più grosso è che indossandoli crediamo di essere protetti quando non lo siamo affatto io sconsiglio vivamente il fai da te speriamo che questo funzioni tanto più o meno da qualche parte ho visto un video per cui tagliuzzo un po' di stoffa del divano e ho ottenuto una mascherina oppure magari modifico ho una stampante e mi invento qualcosa perché ho visto su internet che è facile ecco questo può essere estremamente pericoloso affidiamoci a chi queste cose le sa fare le ha sempre sapute fare pericoli sono tanti fondamentalmente l'idea è che se io ho un dispositivo che deve proteggermi o in questo caso deve proteggere principalmente gli altri e utilizzo un qualcosa di cui non ho idea di quale sia il potere protettivo semplicemente io sto facendo un qualcosa che mi fa sentire al sicuro ma non ho idea magari funziona magari no ecco questo è il rischio più grosso quello di avere una falsa sicurezza alle 19.27 il Tg38 adesso rivediamo una ricetta di Tadà primo piano torna domanda alle 17.30 arrivederci